Ciao amici di Italia Top Games, dopo la batosta con il Bayern ci riprovo, questa volta con una nazionale che mi ha dato molte soddisfazioni e poi che mi piace come gioca, il Belgio. Dall'altra parte c'è di nuovo il Real Madrid, vediamo se riesco a vendicarmi, anche se sarà dura, chissà se è lo stesso giocatore di prima, non si può sapere. Comunque, mi raccomando Romelu, grandi soddisfazioni d'arte. Non so se i nostri amici a casa la sentono, riescono a sentire il calore e l'emozione che si respirano qui sugli spalti, ora affidiamoci allo spettacolo, è quello del campo, quello che dice la verità. Prova l'imbucata per il compagno. Ottimo l'intercetto, che frenovazione interessante. Che peccato. Occhio a cross. A tempo e spazio per il cross. No. Iniziamo sempre malissimo, non è possibile. Ed ecco dunque, arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Non è fallo. Occhio a Benzema. Vai, 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 vai. Buon il tocco di Carrasco. Senza problemi qui, la difesa. Occhio a cross. Occhio a cross. Per Tonga, recupera un buon pallone. Va con il possesso palla. Ed è Nassar. Bravo il difensore che ferma tutto. Azar. E' gol, però, stavolta. Questo è buono, eh. De Bruyne. Vai, 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 ragazzi. Bravi, bravissimi. Questo replay del gol. Aveva tutta la porta a disposizione. Portiere e i difensori. Sa che erano al bar, eh. Hanno pareggiato. Dunque, 1-1. Malagna Metri, palla al piede. Buono. Palla gestita da Azar. Sceglie bene il tempo. Intercetta un pallone che era pericoloso. Da un'occhiata in mezzo, attenzione. Bravo. Real Madrid che può andare dalla baglierina. Poco convinto in questo intervento. Lascia lì il pallone. Intercetta, attenzione da lì. Buono. Entra sul pallone, spetta il pericolo. Maiazzam, maiazzam. No. Mangio prevedibile di Azar. Capisce tutto e intercetta. Cross. Ecco Mendy. Benzema. Modric. Ecco Azar. Occhio al cross di Azar. Interviene prima che sia troppo tardi. No. Efficace. Qui la pressione. Riconquistano palla. Real che guadagna metri. Da un'occhiata in mezzo può spedirla in area. Pallone fuori. Bene, bene, bene. Bene, bene. Punta la porta. Lukaku. Un po' del tackle e recupera il pallone. Ah. Buono. Tackle con il pallone che termina dunque il fallo laterale. Occhio può crossare. No, che ha fatto? Ottimo il recupero del pallone da parte di Cross. Controllo efficace nonostante la molta pressione. Occhio al cross di Vinicius. Libera male sul traversone. Occhio. Buono. Entrata decisa. Perde palla. Dai, dai, dai. C'è da un fallo se non è. Ok, buono. Come si lotta. Cross. Real Madrid che prova a rendersi pericoloso. Occhio al cross di Vinicius. Allontanano il pericolo. Ha provato la botta ma ha esagerato con la potenza. Poteva mettere in difficoltà il portiere qui. Purtroppo non ha inquadrato lo specchio. Hazard. Può metterla dentro. Salva tutto qui. Ah. Una volta straordinaria. Come un gol. Ci sono metri per le merenghies. Male. Attenzione alla possibile opportunità per il vantaggio. Chiusura fondamentale. Che fortuna, ragazzi. Real che prova a rovesciarsi in avanti per creare pericoli alla difesa avversaria. Fondamentale il difensore. Nessun problema per il portiere. Male. Cross. Mendy. Fallo laterale in favore del Real. Buona la serie di scambi dei giocatori del Real. Possesso che torna agli avversari. Si mette col corpo tra palla e difensore. Prova a correre qui il Real Madrid. Se la cavano possono tirare un sospiro di sollievo. C'è un minuto ancora da giocare. Carrasco. Non può sbagliare. Ah. L'angolo di Courtois da pochi passi. Occhio all'angolo di De Bruyne. De Bruyne. Che è? Fuori gioco. E l'arbitro dice che può bastare. I primi 45 minuti di gioco si chiudono sul risultato di 1 a 1. Ragazzi che roba. Uff. Partita tesissima, tesissima. Ragazzi butto dentro il Mertens. Ci provo. Dentro a posto di Azzard. Ciro. Sai quello che devi fare. Poi. E Azzard l'altro no. Niente. Basta. Forza Ciro. Forza Ciro. Si riprende a giocare dopo un primo tempo chiuso in parità. È difficile fare pronostici. Intercettano bene il pallone. Voleva trovare Benzema. Dries Mertens. Vediamo cosa fa ora. Occhio all'accordo di Mertens. Capisce tutto. Pericolo. Intercetta il tiro. Che calcio all'angolo dal quale potrebbe scaturire il vantaggio. Speriamo. Sceglie il tocco corto. Occhio al gol di Mertens. Chanzi interessante la ripresa. Cerca di limitarlo qui. Gol. Riccolo. Il gol del Belgio. Romelu. Oh. Ragazzi. Attenzione. Attenzione. Rivediamo il gol. C'è un tempo. Apprezziamo meglio il senso della posizione. E la freddezza. Con cui l'ha messa dentro da sotto misura. Si riparte col Madrid. Costretto a rincorrere. Belgio si avvicina all'area. Palla che arriva dalle parti del portiere. Karim Benzema. Attenzione. Hazard. Errore di Hazard qui. No. Errore anche di Lukaku. Palla interessante. Palla interessante. Palla anche della difesa. È tutto fermo con l'arbitro che ferma l'azione per offside. In diretta non ero così convinto. Invece era oltre. Seppur di poco. Grandissima chiamata dell'assistente. Pierre. La squadra di casa finora ha fatto meno possesso palla rispetto agli avversari. Il dato però conta relativamente oggi, Pierre. Hanno sfruttato al meglio le opportunità. Che occasione deve approfittarne? Courtois dice di no. Peccato. Lo salta con un numero. C'è campo per la ripartenza. Occhio alla ripartenza pericolosa. La classe di Courtois. Un vero miracolo. Un cambio importante questo per dare energie fisiche e psicologiche alla squadra che è sotto. Trova a spazzarla via. Attenzione. Pericolo scampato. No. Mercedes. Altri guadagnamenti. Ottima lettura difensiva. Trova l'imboccata per il compagno. Trova a rubargli il pallone. Sììììì. Sìììì. Ragazzi. Questa è un'occasione storica per me. Vincere in divisione 5. Dai, dai, dai. è stato bravo qui a resistere all'attacco del difensore e a battere il portiere quarto gol della gara che fissa sul 3 a 1 il punteggio occhio a Sark che avanza guarda il movimento in area intervento non perfetto vediamo se ne approfitta se la cavano Lukaku perde il controllo della sfera non un grande passaggio in effetti guadagna metri il verde stanchissimo Lukaku ma si fa tutto il campo occhio a Benzema Benzema perde palla e la regala agli avversari tenta la verticalizzazione buona idea super Courtois che parata Modric Valverde alla buona per Benzema risultando che torna in qualche modo in birico grazie a questo gol maia ragazzi stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3 a 2 ancora un quarto d'ora da giocare Carvacal buona la serie di scambi dei giocatori del Real e alla fine perdono palla bravo Verstungen alla Mertens lo devi tenere buona qui la lettura del difensore alla Mertens tutuisce le intenzioni e ferma il passaggio occhio a questo lancio decisivo quel portiere che tiene ancora in vita la sua squadra e se avessero preso col qui probabilmente la partita si sarebbe chiusa ufff c'è la sostituzione per dare energie e forze fresche in questa gara c'è di ribattere curvo e ramatti palla al piede attenzione a De Bruyne gol che bella azione che abbiamo fatto ragazzi la regia ci ripropone l'azione del gol possiamo apprezzare meglio la verticalizzazione che ha liberato il tiro al compagno non poteva sbagliare da lì aveva tutta la porta davanti a sé si riparte sul ponteggio di 4 a 2 Carrasco azione che sfuma ottima lettura difensiva vuole il tocco verticale non riesce a chiudere palla pure in gioco ci fuori bene a tiro ma non è finita smette il pericolo occhio alla ripartenza ripartenza che non va buon pallone importante per provare a riaprire la gara la classe di Courtois un vero miracolo corner in aria colpa di testa che non è finito poi troppo lontano dal palo il peggio perde il pallone si giocherà per almeno altri due minuti no peccato se tirava non c'era il portiere niente da fare gran recupero difensivo ok si chiude qui il match wow ragazzi che partita si anche da parte mia il tecnico può essere soddisfatto per la prova della sua squadra e beh dai ci voleva questa prima vittoria in divisione 5 dai se tre punti per la per la salvezza per la promozione è un pochino più lunga al prossimo video ciao ciao